Sale il numero di contagi da Covid-19 nella provincia di Napoli. I numeri di ieri non sono certo incoraggianti e i sindaci chiedono responsabilità in questo momento così delicato. Sono 39 le positività da Covid-19 a Torre del Greco, registrate nella giornata di ieri. Si contano anche 4 guarigioni. Attualmente ci sono 241 persone in isolamento domiciliare, 5 ospedalizzati per un totale di 246 positivi. A Del Colano il Covid ha colpito 302 persone, fortunatamente tutte in quarantena domiciliare. La stragrande maggioranza non presenta nessun sintomo, mentre una piccola parte di loro è affetta da sintomi lievi, ha fatto sapere il sindaco Ciro Bonaiuto. Intanto oggi a Del Colano ci sarà una protesta pacifica dei commercianti a causa delle dure restrizioni imposte dal DPCM e del Premier Conte. Presente anche il primo cittadino che insieme agli imprenditori locali farà sentire la propria voce. Un solo caso di positività a Torre annunziata nelle ultime 48 ore, numero che fa ben sperare per un calo della curva dell'epidemia, che ha registrato ad oggi 99 casi positivi da Covid-19, di cui 91 in isolamento domiciliare e 8 ricoverati verso il Covid-Center della Regione. Nel comune di Portici, dopo il boom di contagi nella casa di riposo Pio XII, iniziano i primi tamponi di guarigione. Al momento 8 ospiti sono risultati negativi al tampone, quindi guariti, 13 sono ancora positivi e 20 sono in attesa degli esiti dei tamponi di guarigione, è quanto affermato dal sindaco di Portici Enzo Cuomo. Registrati nelle ultime 24 ore nel comune di Castellamare di Stabia, 48 casi positivi al coronavirus. Il sindaco scrive, il bilancio è nuovamente molto pesante e dal momento non abbiamo segnali di incoraggianti dal territorio regionale. Intanto è chiuso ancora il pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo, un'altra prova da affrontare ma anche in questo caso la professionalità e la benegazione dei nostri operatori ci porteranno fuori dal tunnel, conclude Cimmino. Grazie.